E ciao belli e benvenuti da Edvissi con il tuo click, mi piace, al canale iscriverti, per voi semplicemente un click per un grandissimo segno di calitudine Questo è un argomento un po' particolare che comunque volevo portare avanti perché credo che sia abbastanza importante farlo E credo che sia anche tanto importante parlarne Parliamo dei cartelloni mati che ci sono in questa nuova generazione di bambini che vanno dai 2, 6, 8, 9 anni Praticamente io quando ero piccolino, io alla mia generazione degli anni 90, 93, 94, 95, 96, ok, fino a poi arrivare a perdersi verso 2000 Siamo cresciuti con certi cartelloni mati che realmente inculcavano nella testa dei bambini come nel mio caso Certi valori secondo me parecchio importanti che oggi sono completamente persi Basta guardare i pigemini o basta guardare insomma Peppa Pig o altri cartelloni mati che per quanto possono essere soft diciamo così Possono essere tranquilli non vanno a insegnare secondo me nulla di importante allo spettatore quindi al bambino Prendiamo un esempio Quando ero piccolo andava parecchio Rossana Chi se lo ricorda? Spero tutti Rossana praticamente era un anime E dico anime non perché sono diversi così tanto dai cartelli mati Ma perché con anime identifico un tipo di prodotto che ha delle caratteristiche che nei cartelli mati Prendendo per esempio Spongebob o Gumball non hanno Sono più cartelli mati che tendono a divertire mentre gli anime solitamente poi dipende in che caso Cercano più di darti una morale e raccontarti una storia del creatore di quest'ultimo Rossana era una ragazza stata adottata da una mamma che era pazza Vi ricordate che la mamma c'era il criceto in testa che gli girava era completamente fuori Una ragazza estremamente popolare e ricca che aveva a che fare col mondo dello spettacolo E tutte le conseguenze negative sia per carità quelle positive che ne venivano Insieme a Rossana c'era Eric, vi ricordate il ragazzino, che aveva perso la madre durante il parto Cioè la madre di Eric era morta dando la luce a Eric e per questo il padre lo detestava Ed era una lotta per lui e per la sorella essere accettati dal padre che covava odio verso questo ragazzino Insomma tutto questo era condito da un fattore parecchio divertente Perché poi Rossana era parecchio divertente, si parlava di bullismo a scuola Era trattato in maniera molto figa E quindi io prendo in considerazione questo anime che comunque noi ragazzini magari lì per lì non ce l'accorgevamo Ma ci davano dei valori, dei insegnamenti importanti all'epoca Perché il nostro cervello comunque ne traeva profitto per poi capire certe cose solamente più avanti Solamente nella crescita e avere dei valori importanti come quelli che Rossana ma anche altri anime cercavano di dare Ma stupidamente anche pensando solamente a Dragon Ball Ok i ragazzini di Mo praticamente manco sanno che cos'è Dragon Ball Cioè non sanno che cosa sia Io provo a fare onde energetica a un ragazzino e vedo che il ragazzino non mi risponde Ma io non mi voglio sentire vecchio per questo Cioè Dragon Ball ha fatto la storia perché è stato uno dei primi anime a essere importanti Che per quanto stupidi potevano essere i valori di Dragon Ball comunque tendeva a insegnare l'amicizia Il combattere insieme per un obiettivo Il bene che trionfa sempre sul male Il fatto che anche un essere cattivo come Vegeta può nascondere un cuore buono E tutte queste cose qua E invece voi mi dovete spiegare che cosa insegna il Trino Thomas o i pigiomini No per favore spiegatemelo Io mi invito a guardare questi cartonimati e spiegarmi che cosa insegnano Io non voglio fare il vecchio Però io ragazzi veramente non capisco Per carità anche ai tempi nostri c'erano degli anime meno importanti Pensate un po' a Antaro Antaro era un anime un po' del cavolo Non è che era tutto questo tipo di insegnamento Però comunque era a per il mio roba di qualità Per quanto fosse stupido anche Pokémon a livello proprio di morale Era roba di qualità Era fatta col cuore Era fatta con i soldi Era fatta bene Perché c'era un investimento di tot euro Perché la gente voleva qualità Invece se io guardo i pigiomini Ma anche altri cartonimati comunque che vanno su Cartonito Che vanno su Boeing Tranne in alcuni casi io non noto nessun tipo di qualità Nessun tipo di investimento economico Ma solo un ammasso di cazzate Per cercare di influenzare a comprare gadget di quel cartonimato ai più piccoli E questa cosa mi dispiace Mi dispiace perché i ragazzini non vengono più influenzati da certi valori Che per me sono importanti E che comunque cercavano di insegnare, istruire e far crescere un bambino Basta anche pensare appunto alla melevisione o all'albero azzurro Che comunque cercavano sempre di tirare fuori la vostra creatività Di fare qualcosa con voi durante la trasmissione Prendete la carta, le forbici a punta, arrotondate No vi ricordate? Ma anche Art Attack stesso con Giovanni Mucciaccia in Italia Che comunque cercava di dare creatività al ragazzo Che era condito da un'ironia comunque a Art Attack abbastanza fine Che un ragazzino non capiva che però si capisce più avanti Giovanni Mucciaccia Cioè se voi lo seguite sulla sua pagina web Cioè è uno che ne sa di arte E con noi c'è un programma di arte Ragazzi di arte Non come sconfiggere il Romeo che vuole Che ne so No Cosa sta succedendo? Io voglio di nuovo gli anime Quei valori Per i ragazzini Anime che insegnano rispetto Anime che insegnano l'amore Il sacrificio Quel tipo di prodotto Che il bambino possa assorbire certi concetti E crescere con certi valori Ed è questo secondo me Quello che manca Ragazzi vi ringrazio per la views Edwaze Vi saluta Ricordatevi il like Che per me e per tutti gli altri youtuber è importante E noi ci becchiamo Al prossimo video Ciao Oh yeah E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo Grazie a tutti